grave lutto per fabrizio e francesco tarducci che hanno perso papà ivano nelle scorse ore l'uomo si è spento a 96 anni fabrizio e francesco tarducci meglio noti con i nomi d'arte fabri fibra e nesli hanno perso il padre nelle scorse ore ivano tarducci è deceduto come ha riferito il figlio minore tramite un post instagram infatti è stato nesli il primo a commentare la scomparsa del genitore ti voglio bene ciao pa buon viaggio tantissimi fan che hanno espresso cordoglio all'artista per il grave lutto subito al momento fabri fibra pubblicamente non si è espresso in merito alla morte di papà ivano l'uomo padre dei due rapper e di federica era un noto commerciante di senigallia città d'origine della famiglia se ne è andato all'età di 96 anni anche il sindaco massimo olivetti e la giunta hanno commemorato ivano tarducci attraverso una nota credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta un a capo di abbigliamento da tarducci con la scomparsa di valdo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città un abbraccio affettuoso ai suoi familiari nesli e fabri fibra da tempo non hanno più rapporti era il settembre 2008 quando i due fratelli litiagrono interrompendo i contatti pare che non li abbiano più recuperati nel 2016 nesli narrò che quando erano piccoli dopo aver vissuto un triste episodio si trovò assieme a fabri a condividere la stessa passione per la musica qualcosa però è andato storto negli anni successivi crescendo i loro gusti musicali cambiarono e i rapporti si deteriorarono